Ciao a tutti, siamo qui con Lorenzo di Limited Toys, alla sua prima esperienza a Cartoon Mix. Lorenzo, siamo al termine di queste tre giorni, raccontaci com'è andata. Benissimo, assolutamente da rifare. Prima esperienza, però molto molto contento. Cos'hai venduto per la maggior parte? Lego, Gampla, Doll, Hot Toys e un po' di Bandai, materiale Bandai come Sailor Moon, Dragon Ball, un po' di tutto. Quindi hai spaziato un po' su tutti i prodotti. Sì, esatto, esatto. Abbiamo visto che hai fatto anche una bella esposizione di Hot Toys, forse l'unica che abbiamo visto è qua Cartoon Mix. Peccato per le luci, una mancanza dell'organizzazione, però vabbè. Modello più venduto, Lego? Star Wars. In assoluto. Ma porta chiavi, sveglie, set Star Wars. Limited Toys esattamente, com'è Gravola? Solo nelle fiere? Abbiamo un sito online, siamo solo online per il momento, www.limitedtoys.it e facciamo le fiere di settore, principalmente qui in Lombardia. Lo vedo, Cartoon Mix è la prima esperienza. Quindi uno può ordinare i prodotti sul tuo sito, può anche preordinarli? Sì, 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 anche come preordini non ci sono problemi. Quindi consegnate in tutta Italia? Esatto, esatto. Perfetto, niente, se non hai altro da aggiungere ti ringraziamo. È tutto a posto, stanchissimo, però contento. Perfetto, grazie mille Lorenzo. Grazie, ciao. Ciao.